che non è, che non è il sub con le latine ma è il sub questo qua che era lì prima ok allora ci siamo? andiamo? a fra me? vieni qua, vieni qua hai mai messo il sale della pasta? si bravo, vieni qua guarda che sono zocco si zobbo? si ti va l'osteria e perde la partita? allora, no, no, sei destro? si ok, li segui che cosa te la fai? dipende ok, bravo, allora, tieni qui, tieni sto parattolo ok, adesso io metto lo spray e tu metti i brillantini lei si mette così, poi si mette così, poi si mette così bene, adesso mettiti indietro daccelo, daccelo ti dici così ti giuro a ponte a ponte dai, vieni lo te no, non devi lanciarlo, eh, non è il lancio del brillantino devi venire qua di sopra vai, vai, vai vai, bello, brillantino bello questa è bella, lasciate questa canzone che bella ok, mettiti così a ponte vai, vai, metti, vieni su, vieni, 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 nooo no perchè così ti espondiamo meglio no? certo eh 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 sempre ci spettacolo bene dai 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 fa il braccio fa il braccio fa il braccio vieni qua fammi il tuo braccio eh 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 su dai nuoto Cici ti pari qua segni l'hai che puntato dai a quel posto dai allora mi piace? anche la mano mi piace dai non ti preoccupare vieni al sole che ci sono anche i brillantini prego 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 forniamo un cerchio forniamo un cerchio oh eccoci qua bello bello mi piace eh allora grazie alla collaborazione di adesso Sebastiano Marco vieni 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 con il golo con la maglietta gnocca se forse della gnocca no ma c'è va bene Michael ok allora vediamo una location allora gira ti dicovi e mi dicovi e mi fai le foto di qua vuoi darmela me? vuoi darmela? grazie va dammela dai no era la proposta aspetta che si è bloccata la macchinetta no ritorna a 90 ritorna a 90 ferma così rimani così metterla in costetta ferma lì no no eh prima che noi non ci mettevano eh lo so se tu fessi bella musica balleresti DJ DJ lei balla io faccio il video mentre balla tu metti la bella musica e balla aos 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 ehi che siamo? cosa vanno qua? eh? ah sta continuando l'ora? l'uni l'uni vieni 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 cari 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 i miei video in una mettimi la magliettina allora allora cosa facciamo? ti togli la foglietta? ma prego eeeh ti togli la foglietta? eeeh ok allora fa pure alza pure anche qualcosa dai tu ce l'hai? ti togli, ti togli, se va è spartito il video e che dopo lo vediamo su youtube eh allora ricordiamo che il video è una giornata adesso stuiazzatevi, stuiazzatevi eeeh lì 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!